Conosci i tuoi campioni. Per i tifosi della magica era diventata una leggenda, tanto da meritarsi il soprannome di ottavo re di Roma. Amedeo Amadei, per tutti il fornaretto per le sue origini, nei 12 anni in giallo rosso è riuscito ad imporsi non soltanto come implacabile finalizzatore, ma anche come bandiera nonché uomo simbolo. Nato a Frascati nel 1921, debutta in Serie A a 15 anni in un Roma-Fiorentina, segnando la prima rete nella massima serie la settimana dopo in un Lucchese-Roma, terminato 5-1 per i Toscani, due record che nessuno ad oggi è riuscito ad infrangere. A suon di gol trascinerà la squadra giallorossa alla conquista del primo storico scudetto del 1942. Vestirà poi le maglie di Inter e Napoli, ma il suo nome resterà legato indissolubilmente alla storia romanista, tanto da essere inserito tra i primi 11 calciatori eletti nella Hall of Fame del club.